musica buongiorno buongiorno che ti voglio mangiare due uova e non ho ancora un ventriceno due uova e non ho ancora un ventriceno no ma è buono non so perché la compressione non va buono come la compressione? la compressione non la compressione dimmi una cosa dimmi una cosa ma che significa che significa che significa che vuol dire che quando va dalla pita il cuore si calegna il cuore perché la taglia d'olio non so non so non so ma non so e mi sento troppo riempire comunque io mi faccio spugno di un uomo con l'antricinabolo io ti ho detto che le tigre con l'antricinabolo per noi e che si moriamo sempre qua questo qua per il polisterolo e la compressione lo polisterolo e lo polisterolo e lo polisterolo la compressione e la pressione sempre lì e che e lo polisterolo e lo polisterolo a una certa età la pressione e si va a scacchiare qua succede ciao e a a